Abbiamo sempre confidato nella data del 31, perché ormai questa è la terza pagella che riceviamo. La prima si chiamava Report 0, la seconda Report 1 e questa Report 2. Tutte e tre le pagelle del Ministero confermavano che in otti i numeri erano pienamente in regola, che confermavano la costante discesa del numero dei positivi, del numero dei decessi, delle terapie intensive, dell'RT che adesso è attestato a 0,50 quando il limite di soglia è 1. Per cui tutta una serie di valutazioni che confermavano questo trend positivo, peraltro confermato anche dal monitoraggio regionale che noi ogni giorno facciamo e che ci conferma che il Diemonte oggi ha tutti i quadratini bianchi. Vuol dire che non ci sono situazioni di criticità che ci fanno ben sperare e confidare nella data del 3 giugno per riaprire i confini della mia regione.